Bella ragazzi, sono il Drago Russo e bentornati in questo nuovissimo episodio di Golden Sun 2, l'era perduta Finalmente siamo riusciti a toglierci questo grossissimo peso sul serio Allora Sappiamo come fare per prendere la chest Quindi adesso riusciremo finalmente a prendere quella dannata roba Però qui, che palle Che ogni volta si resetta la lafune Scendi Ok Meno male che questa resta perché altrimenti Allora, dov'è la cesta? Qua se non sbaglio Eccola qua Bastava usare tremore Guarda, visto? Ora bisogna andare al piano di sotto Qua bisogna fare per forza il giro Anzi Sì invece Qua bisogna ributtarci Eh, da qua È venuto anche l'uso Ma lo riusciamo subito Così che i mostri non ci attaccano Bisogna entrare per di qua Se non sbaglio O è di sopra? È di sopra Sì, è di sopra Quindi Di qua Non è vero Ecco Cominciamo ancora Porca di quella vaca Beh no, vai Di qua Ok No, anzi Mi sa che sto andando da tutta l'altra parte Sì infatti È l'altra parte Bellissimo Vai anche finita l'illusione Però strano Perché non ne mi sembrava che Dove dove Possiamo andare Qua E che palle ogni volta C'è una strada Un attimino più Breve no, eh Sempre sto casino Che voglia Non si finisce più Do è il suo non finito Pronto? Porca troia Va che tocca fare Tutto il giro Porca puttana Buttiamoci per di qua Eh Porca puttana con questo L'illusione però, eh Finisce subito Proviamo per di qua Aspetta È qua Mi sa Eh Può essere O è in questa porta Eccola qua Finalmente Una chiave Una chiave rovinata No Chiave rovine Ok Teniamola lei E adesso con questa chiave Credo di aver capito La chiave Serve per aprire La porta Quella che Conduceva Qua Eccola qua No Tiena Usa Un'altra stele Tutta per noi Grandissimo Oh e finalmente Anche questo peso È stato tolto Porca vacca Felix Esamina la stele Ora puoi evocare Moloch Per Moloch Servono Due mercurio Un giove Di gini Standby Perfetto Ah e anche qui Abbiamo finito Porca di quella Puttana Finalmente No Ah Felix E qui Finalmente Abbiamo finito Ora Prossima tappa Nave Lemuria La nave Di Lemuria Quindi Ci aspetta Un lungo Viaggetto Dobbiamo Ritornare indietro Per di qui Se non sbaglio Dobbiamo tornare indietro E arrivare qua Che credo sia qua Però quello dovrebbe dire No qui è troppo Qui è troppo indietro Quindi è in questa zona Qui di sopra E credo che dobbiamo andare qua Quindi Qua non Non c'è un Altro ponte qualcosa No mi sa che dobbiamo fare Tutto il giro assurdo Anzi no C'è addirittura questo Ma ci può portare direttamente Alla Non credo Aspetta Ponte di Madra Aspetta No 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 Perché qua c'è Fare Ritornare ad Allafra Il deserto Ma noi dobbiamo andare Praticamente Noi dobbiamo andare Nell'altro piano Deccan Praticamente Quindi bisogna rifare il giro All'indietro Giustamente direi Anche perché altrimenti Sì però ci sono tipo Altri punti Da prendere Anzi adesso non so neanche più Dove andare Ah a me è già finito il coso Pierce Illusione per favore Grazie mille Però io qua non vedo Nessun ponte No però c'è questa Che non è che ci fa Ritornare indietro Aspetta ma Questo Caverna di Indra Ma ci siamo stati qui Non me lo ricordo No che non ci siamo Caverna Indra Non me lo ricordo Momento E quella roba lì Mi sa che si usa Eh Spostamento prima No anzi Forse 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 ci siamo stati qua Prima Prima di venire Di esplorare questo posto Infatti che qua bisogna Usare pala Se non sbaglio Su questa cosetta Come no Scusa questa roba Se l'abbiamo già Fatto niente Però strano Provo usare martello Ma non penso no Perché è più In avanti Riposiamo un'altra volta Pala Però boh Strano Mi fa molto strano Allora Probabilmente abbiamo già Esplorato questa zona Indra Io non me la ricordavo Se abbiamo fatto Indra Qualcosa del genere Boh Vabbè Comunque Verso la nave Sì ma finisce subito Illusione Che cos'è E' qua Sì Eccola qua Costa Est Indra Perfetto Ma prima di Cominciare la nostra avventura Verso il mare orientale Direi di prendere L'ultime cosette Ovvero Brina Vediamo qua cosa c'è Non trovo nulla Un biscotto Ok quindi solo Un biscotto Per sta roba Va bene Ora Mi sa che possiamo Salire Dove è che si sale Da qua Perfetto Finalmente Di nuovo Sulla mia nave Ora posso Tornare Nella mia Matta Lemuria Aspettate un momento Per salpare Dobbiamo raggiungere La sala energetica Sotto coperta Andiamo Wow Nave Lemuriana Finalmente Ok qua Faccio anche senza illusione Perché sono sicuro Che qua Di mostri Non ce ne siano Vuoi prendere Sto cosa Ok Ci sono molti libri Qua C'è un diario Del capitano Qui Si parla di un viaggio Segreto a Lemuria Non c'è altro Oh finalmente Ragazzi Andremo a Lemuria Io non vedo l'ora Di Scoprire Che cosa c'è là Un elisir Perfetto Trovo nulla Non trovo nulla Ok Sala energetica Dice Chi è sotto Scusami Scusami No Io salvo Tu chi saresti? Così a caso Va bene La E perché Scusami Perché questa Ma cos'è Va bene C'è ma queste Poce Ma che cacchio C'è Ok capisco Che forse Bisogna Utilizzare Brina In che scopo Scusami Ecco Vedi che Si formano Delle poce E come Come Prendiamo Questa cesta Credo di aver capito Ok Qualcuno mi spiega Anche questa Credo che questa Non è la Dobbiamo Fare Fare Brina Eccola qua Parapapapapapapapapa Cazzo abbiamo Tutti e tre Il co Il L'inventario Più pienissimo Aspetta Ma io con Conne trollo tutto qua Ok Ci sono tipo Due Due vie Vabbè Andiamo giù per di qua Vediamo un po' Parapapapapapapapapapam Pamm 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 Cosa sono tutte este robe Perché no Ah perché sono di sopra Sì serio Ma se sono tutti sti mostri Non è c'è arrivo giusto da lì No Troppo lontano Ma che cos'è? Ma cos'è? Sul serio? Non lo so Va bene male Destruggiamo poi Eh no cos'è? Un altro puzzle sto qua Ma io ti ammazzola la famiglia Ok comandate Non so chi è salito di livello No dai non puoi dirmi questo Che palle Vabbè qui Facciamo l'attacco normale Che sono stradebili queste meduse Molto bene L'ultimo Anzi ce ne ce ne è anche un'altra di sopra Vale andiamo a sconfiggere subito Appena possibile Perfetto Sì È una parola Sì Aspetta 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 Allora io questa la attivo a prescindere No non è vero Perché non ne posso dopo Ok credo di aver Ma aspetta ma ce ne sono due di Di soluzioni mi sa Questo più Più che di tanto non posso O ce ne sono una Perché allora se attivo questa Ora se faccio brinna su questa Dopo io posso saltare per di Qua Quindi faccio brinna su quello là E poi su lì Anzi no Anche Quella là in basso Quindi quella lì Non la posso prendere Per il momento Bisogna andare In un'altra stanza Ok Meno male che questa qui Comunque sono Riuscito A capirla anche Molto Velocemente Senti fai così Così facciamo Prima Perfetto Anzi in teoria Non c'era neanche Bisogna di muovere La cassa Giusto? Perché si fa così La Sì adesso dico che Che è semplice Ma più avanti Ti voglio vedere Perfetto Ok vabbè qui L'ho ritirata Porca di quella vacca Perché non Sposta E ma butta giù La Prossima stanza Sei serio? Sei serio? Cos'è? Aia Perfetto Marina Per farci Spostare Nella prossima Zona Ed è ready Di far Ammazzare Anche questa Già che ci siamo Pietra legge Ullè Qui ragazzi Stiamo facendo I peggio soldi Ve lo sto dicendo Ok Qui per Prendere Lì Ok Vediamo qua cosa c'è No Niente Se si addormenta Tulla No Ma che c'è Che fai? Sul serio? Perfetto Vai ragazzi Che stiamo Stiamo andando bene Oh Non ho fatto brina Facciamolo subito Perfetto Sì Come ci arrivo Di là Ehm Va bene Che molto probabilmente Ammazzando questa Perfetto Sara Livello 19 Vai Stanno Aumentando Tutti di livello C'è Una roba Incredibile Perfetto Vediamo qua Cosa c'è Niente Ehm Qui bisogna spostare La cassa Non è vero Invece Sì che è vero L'unico Problema è che Ero distante Quindi non E la prendeva Non è vero Ascoltami Omole Ora L'ultima E che cos'è E che cos'è Che si addormenta Benissimo Andiamo qua Andiamo qua Niente Niente Perfetto Ah Un antidoto Bene Tutto ciò A che cosa È servito A fare Così E anche A scendere Ma ok Ma direi Che per questo Episodio Di Golden Sun 2 È tutto Sì Direi di sì Quindi Vi ricordo che Se non siete ancora iscritti Al canale Iscrivetevi Se volete Terminare A giornate I prossimi Episodi Di questo Gioco E di altri Mettere un bel like Se vi piaciuto L'episodio Mi raccomando Anche di dare La vostra E noi ci Ressentiamo Ad un prossimo Episodio Di Golden Sun 2 L'era perduta Bella L'era perduta